Vediamo come effettuare la ricerca avanzata in Business Source Complete. Nella parte superiore abbiamo tre spazi per inserire i termini di ricerca. Iniziamo subito a fare una ricerca su un argomento specifico di economia, la responsabilità sociale di impresa. Naturalmente dobbiamo tradurre i termini in inglese. La traduzione è Corporate Social Responsibility o in sigla CSR. Nel primo campo scriviamo CSR. Ci viene suggerito di usare anche il sinonimo per esteso Corporate Social Responsibility. Tra le due parole viene messo l'or perché sono appunto sinonimi. A noi va bene perché sappiamo che i termini sono equivalenti. Lo seleziono. A destra possiamo specificare dove cercare i termini. Ad esempio possiamo specificare di cercare solo nell'abstract. Questo serve per non trovare troppi risultati poco pertinenti. Tra le altre opzioni disponibili c'è anche ad esempio Company Entity che serve per trovare articoli che fanno riferimento ad aziende specifiche. Adesso seleziono Abstract e lancio la ricerca. Troviamo 9.735 risultati. Questo tipo di ricerca, come vedete, è di facile utilizzo ma spesso restituisce troppi risultati non sempre pertinenti. Possiamo limitare la ricerca però utilizzando i filtri che vediamo nella colonna di sinistra Refine Results. oppure possiamo usare la ricerca col Tesaurus il vocabolario interno di termini controllati che ne descrivono contenuto. questo tipo di ricerca è un po' di ricerca. Alla prossima Grazie a tutti.